Ciao a tutti e bentornati su Dazbao, come sapete la settimana scorsa abbiamo discusso sull'onda della vittoria di Trump alle presidenziali statunitensi e abbiamo discusso dei vantaggi visti dalla Cina del ritorno di Trump alla presidenza. Vantaggi per l'appunto discutibili, nel senso che sappiamo che Trump è il presidente che ha dato una svolta marcatamente anticinese all'amministrazione statunitense, una svolta che poi è stata ereditata anche da Biden e nessuno si illude che col suo ritorno alla presidenza allora le cose possano cambiare, queste controverse, questi scontri possano andare a risolversi, anzi questo è decisamente improbabile ma quantomeno Trump va a risolvere uno di quei problemi che visti dalla Cina destavano particolare preoccupazione e cioè sostanzialmente l'assenza di leadership rappresentata dall'amministrazione Biden e un'assenza di leadership che vista dalla Cina si è concretizzata con la discrepanza tra ciò che alcuni membri dell'amministrazione Biden dicevano e facevano e ciò che altri membri dell'amministrazione Biden invece dicevano e facevano e mi riferisco ad esempio al fatto che se il presidente Biden così come anche altri importanti membri dell'amministrazione presidenziale hanno continuato a mantenere un dialogo con la Cina e non mi riferisco solo alle telefonate, ai vari incontri che ci sono stati in giro per il mondo durante il G20 ma anche a San Francisco ecco tra i due presidenti, tra il presidente statunitense e il presidente cinese ecco ma non mi riferisco solo a questo ma anche ad esempio per l'appunto a quel canale diplomatico più o meno segreto che si è costruito nel corso degli ultimi due anni tra Jack Sullivan da una parte e Wang Yi quindi il ministro degli esteri cinese dall'altra. È stato un po' il salvagente delle relazioni tra questi due paesi, un salvagente piuttosto lontano dai riflettori del sistema dell'informazione internazionale nel senso che sì si sapeva che questi due si incontravano e si sono incontrati in vari posti del mondo anche in luoghi piuttosto evocativi nel senso che il primo di questi incontri avvenuti in Europa è avvenuto nel cosiddetto albergo delle spie che c'è a Vienna che c'è in Austria che è un luogo che garantisce una certa segretezza diciamo degli scambi diplomatici che avvengono al suo interno ma in ogni caso si sono sempre incontrati in territori neutrali e ciò che sapevamo è che sì questi due si incontravano ma non sapevamo sostanzialmente che cosa che cosa veniva detto non era un incontro dal quale poi uscivano delle letture dei read out soddisfacenti per comprendere lo stato delle relazioni è stato un po' il salvagente col quale i due paesi hanno continuato comunque a confrontarsi a mantenere a gestire la loro competizione mantenendo un dialogo ma se questo è quello che facevano alcuni membri appunto dell'amministrazione altri la più significativa evidentemente Nancy Pelosi partivano in maniera del tutto divergente a fare a fare altro e pensiamo a quel viaggio non concordato tra Nancy Pelosi e la presidenza statunitense a Taiwan quindi quella che è l'unica o comunque la più significativa delle linee rosse cinesi o comunque quello che è il punto di allerta più significativo nel panorama internazionale ecco questa discrepanza questo mancato controllo da parte della presidenza Biden sui suoi stessi membri della sua stessa amministrazione è qualcosa che sicuramente allarma se non altro perché non sai più con chi devi parlare per parlare con gli Stati Uniti e questo è un problema perché gli Stati Uniti non sono un dettaglio di questo pianeta ma sono il paese che ha l'ambizione più o meno mal riposta di continuare ad accentrare su di sé il potere in quello che è in quelli che sono i principali gangli del potere del sistema monetario e finanziario internazionale oltre che essere il paese che ha l'esercito più vasto e più costoso della storia dell'umanità quindi se una roba del genere soffre un vuoto di leadership beh allora questo è un problema una preoccupazione che ti può anche spingere a fare a fare quello che occorre fare in questi casi cioè sostanzialmente all'allertare l'esercito e prepararsi al peggio e infatti quello che abbiamo visto a Taiwan è stato un aumento non solo in quantità ma soprattutto in qualità c'è una differenza di qualità nelle esercitazioni militari cinesi attorno attorno all'isola il ritorno di Trump va presumibilmente a chiudere questa questa stagione cioè quantomeno ora si sa con chi si deve parlare per parlare con con gli Stati Uniti anche perché questa amministrazione che ci sarà a gennaio si sta formando in questo momento e come leggiamo dai giornali Trump sta scegliendo dei fedelissimi per occupare i suoi ruoli chiave e questo visto dalla Cina vuol dire che per parlare con gli Stati Uniti bisogna parlare con con Donald Trump insomma come si suol dire piuttosto che niente meglio piuttosto Biden era il niente dal punto di vista del controllo sulla presidenza Trump però è il piuttosto quindi qualcosa che forse sia più prevedibile ma ciò che si prevede deve comunque essere essere gestito e la cosa che la Cina dovrà gestire in questi prossimi anni è evidentemente la guerra commerciale che potrebbe scatenarsi e anche in questo caso una guerra commerciale comunque meglio della terza guerra mondiale quindi per quanto non sarà facile da gestire sarà anzi piuttosto complessa però se lo scontro rimarrà all'interno di questo recinto cioè nel recinto dei dazi delle tariffe del commercio è sicuramente meglio che dover gestire la terza guerra mondiale e così vediamo vediamo in questo momento che già si muovono delle cose che sembrano andare in questa direzione cioè la preparazione dei dazi e delle tariffe che Trump ha annunciato non solo verso la Cina anche verso l'Europa ma va da sé alla Cina gli unici dazi che interessano sono quelli rivolti alle importazioni delle merci cinesi e così stiamo vedendo e abbiamo già visto la settimana scorsa il lancio di un programma piuttosto inedito nel senso che l'ultima volta che una cosa del genere è successa è stata quasi dieci anni fa cioè nel nel 2015 cioè un programma di ristrutturazione del debito che va ad affrontare sostanzialmente due problemi cioè da un lato quelli sono i problemi principali all'interno del tessuto fiscale ed economico cinese quindi problemi interni e secondariamente deve anche andare a preparare quella che sarà la guerra commerciale che forse chi lo sa ancora non è certo ma probabilmente a mio avviso Trump davvero lancerà contro contro la Cina quando arriverà ad imporre quei dazi quelle tariffe che ha annunciato in in campagna elettorale ecco quindi aspetti di politica interna aspetti di politica estera vanno ad intrecciarsi in quella che è la manovra lanciata la settimana scorsa che è una manovra che può sembrare un tecnicismo è anche qualcosa di ostico da comprendere stiamo parlando di ristrutturazione del debito dei governi locali ecco quindi qualcosa che diciamo non non attira particolarmente l'attenzione però è forse una delle chiavi di lettura più importanti per comprendere gli equilibri politici all'interno della della Cina non solo della Cina di passato la Cina delle dinastie imperiali ecco perché perché le cose in Cina funzionano che quando il rapporto tra governo centrale e governi locali perché poi stiamo parlando di questo cioè di rapporto tra governo centrale e governi locali che è una cosa che quando funziona bene le cose vanno bene all'interno della Cina ma quando funziona male si arriva invece a situazioni che possono anche portare al crollo o che hanno portato nel passato al crollo delle dinastie imperiali perché poi in fondo gli imperi crollano così come sono abituati a crollare e anche se spesso parliamo di imperialismo di imperialismi imperialismo statunitense imperialismo russo imperialismo cinese dando quasi per scontato che c'è un'unica forma di imperialismo perché esiste un'unica forma di impero no questo in realtà non non è così vero ma ciò che vediamo è che l'impero cinese ad esempio ha seguito nel corso della sua storia una storia che è arrivata fino ai tempi moderni fino al 1911 ha seguito delle dinamiche che sono proprie dell'impero cinese che sono state diverse rispetto all'impero romano rispetto agli imperi coloniali europei e rispetto adesso all'impero all'impero statunitense e se possiamo assumere che l'impero statunitense parliamo spesso del crollo dell'impero statunitense ecco se l'impero statunitense crollasse davvero beh crollerebbe così come sono sempre crollati gli imperi occidentali travolti dall'impero romano in poi travolti dal loro desiderio di civilizzare travolti dalla dall'espansione dalla crescita della macchina militare quindi dei suoi costi costi politici ma anche costi costi economici e travolti da da scandali interni che hanno paralizzato la loro politica e la loro società ecco se l'impero statunitense crollasse quando crollerà crollerà così come sono sempre crollati gli imperi occidentali per certi versi e allo stesso modo se l'impero cinese di oggi crollerà beh crollerà così come sono sempre crollati gli imperi cinesi e uno degli aspetti più interessanti per capire lo stato di salute di un impero cinese è proprio questo cioè il rapporto tra governo centrale e governi locali e il governo centrale quello di cui parliamo sempre cioè quello che sta a pechino mentre i governi locali sono quelli che governano le province della della cina ed è qualcosa che fatichiamo a inquadrare soprattutto in occidente perché partiamo da quell'assunto che in cina c'è un uomo solo al comando che governa l'intero sistema politico economico industriale demografico amministrativo che è una tesi che poi si scontra con con l'osservazione empirica nel senso sappiamo che la cina è un sistema piuttosto complesso diciamo sia per la sua vastità demografica geografica per la sua potenza industriale per vari motivi è piuttosto ovvio che non può esserci una sola persona a governarlo ma non solo non può esserci una sola persona a governarlo nel governo centrale ma ciò che abbiamo in cina è che non c'è un solo governo ma c'è una trentina di governi e che sono i cosiddetti governi locali e che mantengono un'importanza piuttosto forte se non altro per due ragioni e la prima è che per arrivare al governo centrale è un'importanza politica segnata dal fatto che per arrivare al governo centrale bisogna passare dai governi locali tutte le persone che vediamo nel governo centrale cinese sono persone che hanno avuto la loro carriera nei governi locali cioè hanno governato su delle province su delle regioni chiamiamoli come vogliamo della della cina carriera politica cinese funziona così quindi i governi locali formano formano le persone che poi vanno ad occupare posizioni di potere all'interno del del governo centrale quindi questa è una direzione diciamo dal basso verso l'alto ma poi secondariamente c'è anche una direzione dall'alto verso il basso e cioè il fatto che il governo centrale emana delle linee guida che poi governi locali sono sono chiamati ad implementare ma le condizioni locali e la possibilità o meno di implementare queste queste linee guida beh questo dipende dal dal governo locale stesso quindi c'è un'importanza in entrambe le direzioni rappresentata dai dai governi locali ed è per questo che quando il rapporto funziona bene le cose vanno bene ma quando il rapporto funziona male invece le cose vanno vanno male e del rapporto non in ambito politico ma in ambito fiscale di queste due realtà cioè del governo centrale e dei governi locali abbiamo parlato piuttosto nel dettaglio ad agosto cioè quando abbiamo commentato il terzo plenum di luglio se non altro quell'incontro l'incontro più importante all'interno dei cinque anni di governo che si ha in in cina è il terzo plenum c'è stato luglio di quest'anno per l'appunto e ciò che abbiamo visto è come il terzo plenum abbia sostanzialmente rappresentato la continuazione di una riforma in ambito fiscale questo è stato annunciato andando quindi ad invertire quelle riforme che c'erano state invece negli negli anni 90 perché perché ciò che abbiamo detto prima cioè la possibilità che hanno i governi locali di implementare le misure emanate dal governo centrale dipende sostanzialmente da una roba sola cioè se hanno o meno i soldi per farlo e se hanno o meno la convenienza per per farlo e dal punto di vista dei soldi ecco che il sistema fiscale ci descrive quello che il modo in cui le risorse nel sistema della tassazione vengono distribuite tra il governo centrale e i governi locali e la riforma più significativa che ancora oggi è in qualche modo in vigore e che si sta cercando di correggere di modificare è una riforma che c'è stata negli anni 90 e che andava a risolvere quello che era il principale problema degli anni 90 e cioè gli anni 80 gli anni 80 era un contesto in cui in ambito fiscale si aveva una un decentramento della riscossione in ambito fiscale per l'appunto quindi la riscossione delle tasse nel senso che i governi locali avevano più potere di riscossione di quante ne avesse il governo centrale e questo è stato un problema nel momento in cui negli anni 80 si è lanciato quel vasto sistema di riforme le riforme le aperture di densia opin fate però in un contesto in cui il governo centrale era relativamente povero perché c'era un decentramento fiscale quindi le risorse la riscossione delle tasse andava principalmente verso i governi locali questo decentramento fiscale portava quindi il governo centrale ad essere relativamente povero rispetto ai governi locali e quindi con meno risorse per andare a gestire quell'ampio piano che poi ha riguardato varie parti della della nazione in un contesto anche di alta inflazione questo anche c'è stato negli anni 80 che ha portato ad un malcontento popolare che si è anche poi tradotto in delle rivolte nella seconda metà degli anni 80 che hanno portato fino all'89 quindi a piazza tienamen anche l'inflazione che c'era in quel momento è stato un motore di quelle rivolte tanto che l'amministrazione che sale dopo piazza tienamen l'amministrazione di zian zemin e che lancia una riforma in ambito fiscale cioè un accentramento del sistema fiscale quindi tornare ad avere un governo centrale più con più poteri di riscossione a discapito invece dei dei governi locali e ciò che i governi locali hanno dovuto fare per ottenere i soldi perché poi alla fine i governi locali sono quelli che sono i responsabili per la maggioranza della della spesa pubblica ecco quindi per poter avere i soldi e quindi per lo sviluppo le infrastrutture settori immobiliari il welfare e tutto ciò che ha a che fare con la gestione di una unità amministrativa locale che è comunque vastissima le province in cina sono grandi come le nazioni in europa sostanzialmente quindi non stiamo parlando di piccoli governi di piccole province ecco per poter gestire tutto questo servono evidentemente dei soldi e quindi ciò che si è inventati negli anni 90 è la cina che abbiamo ancora davanti ai nostri occhi e che si sta cercando in questi anni di di smantellare e così arriviamo nel dettaglio a comprendere che cosa hanno fatto i governi locali negli anni 90 e negli anni 2000 e perché questo ha a che fare col cosiddetto debito nascosto cinese e perché questo ha anche a che fare con la preparazione ai tazzi e alle tariffe che donald trump potrebbe presto varare insomma come abbiamo detto i governi locali sono responsabili di circa l'85 per cento della spesa pubblica ma ricevono poco più del 50 per cento delle entrate fiscali totali ecco l'abbiamo detto c'è un accentramento accentramento del sistema fiscale il governo centrale è relativamente ricco oggi rispetto ai governi locali in opposto come era invece negli anni 80 col governo centrale relativamente povero rispetto ai governi locali e in più fino al 2010 i governi locali era proibito di indebitarsi direttamente e a fronte di queste restrizioni i governi locali hanno utilizzato una varietà di canali di finanziamento fuori bilancio per raccogliere fondi e ci avviciniamo al debito nascosto perché la tattica più comune per ottenere prestiti fuori bilancio è stata la sono stati i veicoli di finanziamento degli enti locali lgfv l'acronimo che hanno svolto un ruolo significativo nel guidare la crescita economica e gli investimenti della cina finanziando lo sviluppo delle infrastrutture urbane e gli anni 90 gli anni 2000 sono stati soprattutto questo anni di forti investimenti di forte sviluppo delle infrastrutture di forte urbanizzazione e questo strumento i veicoli di finanziamento degli enti locali sono stati uno degli strumenti più centrali per comprendere come i governi locali avessero le risorse per mandare avanti questi sistemi e nel dettaglio questi veicoli di finanziamento degli enti locali sono sostanzialmente delle imprese di proprietà statale a cui è consentito contrarre prestiti ed emettere obbligazioni e per l'appunto sono società di proprietà statale create dai governi locali che però agiscono come entità indipendenti anche se però di fatto operano come bracci estesi delle amministrazioni locali cioè sostanzialmente raccolgono fondi e mettendo obbligazioni ottenendo prestiti dalle banche e come garanzia utilizzano degli asset pubblici pensiamo ad esempio ai terreni quindi mettendoli come come garanzia anche beni immobiliari o altri asset ecco mettendoli come garanzia ottengono per l'appunto dei prestiti con le quali si può finanziare delle opere di sviluppo e tutto questo va ad intrecciarsi anche con con il sistema con il sistema immobiliare cinese perché poi i terreni sono qualcosa che interessano soprattutto agli sviluppatori agli sviluppatori immobiliari e anche gli sviluppatori immobiliari danno soldi ai governi locali quando i governi locali danno in concessione i terreni sui quali sui quali costruire ecco quindi anche gli sviluppatori immobiliari il sistema immobiliare è stato una fonte di finanziamento per i governi locali e poi i fondi vengono investiti in progetti di infrastruttura urbanizzazione trasporti sviluppo urbano e altri settori di interesse pubblico poi vari momenti che han portato ad un ripensamento di questo sistema ad esempio la crisi finanziaria del 2007-2008 una crisi partita in occidente ma che comunque ha avuto degli effetti anche nel governo cinese tra cui il fatto che è stato sparato quel colpo di bazooka un piano di stimolo nazionale e il 72 per cento di esso con sistema in finanziamenti per le infrastrutture ma il governo centrale ha finanziato solo il 30 per cento del pacchetto quindi nuovamente il 70 per cento è finito a carico dei governi locali e questo ha portato ad un aumento di quel sistema che abbiamo appena descritto cioè di quei veicoli di finanziamento dei governi locali con circa due terzi del pacchetto finanziato tramite prestiti e a questo si aggiunge anche quella che è stata la proliferazione di banche locali anche questo ulteriormente ha aggravato l'aumento e i rischi di questo strumento poiché le banche sono diventate una delle principali fonti di finanziamento di questo veicolo veicolo di finanziamento dei governi locali poi nel 2014 ai governi locali è stato permesso di prendere in prestito il denaro direttamente nel tentativo di ridurre questa dipendenza e nel 2018 il governo centrale ha annunciato che non avrebbe salvato gli lgfv che fallivano segnalando quindi la necessità di cautela e in questo periodo però vengono anche apportate delle riforme per aumentare la quota dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti locali dal 25 al 50 per cento in aggiunta a una quota dell'imposta sui consumi ecco si comincia intervenire anche in ambito fiscale dando ai governi locali più potere di riscossione dei tributi quindi la possibilità di ottenere più soldi dal sistema fiscale stesso ma 2020 crisi del settore immobiliare e che crea fa aumentare anche le preoccupazioni sul sul debito la preoccupazione sul debito anche perché quando crolla il mercato immobiliare crolla anche il sistema che permette ai governi locali di utilizzare i propri terreni per per ottenere risorse che poi servono per per il welfare per lo sviluppo di infrastrutture e per tutto quello che abbiamo detto ma se il sistema immobiliare entra in crisi ecco che entra in crisi anche uno dei principali strumenti con il quale col quale i governi locali riuscivano a ottenere il loro il loro finanziamento e il debito il debito è cresciuto tanto che il fondo monetario internazionale ha stimato che i debiti degli enti locali sono quasi raddoppiati dal 2018 al 2023 raggiungendo i 66 trilioni di yuan quasi la metà della produzione economica annuale della della cina e di questo debito nascosto perché quando si parla di debito nascosto si parla di questa roba qui di questo debito nascosto il governo cinese ne ha riconosciuto ne ha riconosciuto una parte nel senso che se il fondo monetario internazionale stima 66 trilioni di yuan quindi 9 trilioni di dollari la settimana scorsa il governo centrale ne ha riconosciuto 14 trilioni di yuan di debito nascosto in sospeso da parte dei governi locali e la ristrutturazione del debito si riferisce alla ristrutturazione quindi di questa cifra che è stata riconosciuta e poi cerchiamo anche di capire perché si parla solo di 14 trilioni e non di 66 come ne stima il fondo monetario internazionale ma andiamo con ordine ciò che è accaduto è che la settimana scorsa il comitato permanente del congresso la legislatura cinese ha approvato quindi questo programma di ristrutturazione del debito dei governi locali che ha a che fare con 6 trilioni di yuan per i governi locali appunto per riportare il loro debito nascosto nei libri contabili e 6 trilioni di yuan sono aggiunti alle quote di obbligazione per scopi speciali che le autorità locali emetteranno dal 2024 al 2026 2 trilioni all'anno inoltre il governo centrale ha consentito all'autorità di utilizzare altri 800 miliardi di yuan di provenienti da nuove obbligazioni per scopi speciali a partire da quest'anno aggiungendo altri 4 trilioni di yuan in tutto per gestire il debito nascosto quindi 6 più 4 arriviamo così sostanzialmente a 10 e appunto l'anfo an quindi il ministro delle finanze ha riconosciuto 14.3 trilioni di yuan di debito di debito nascosto ma alcuni osservatori temono che il governo centrale stia sottostimando la portata di questo debito perché come dicevamo altre stime vanno dai 50 ai 60 trilioni mentre il governo centrale ne riconosce solo 14 ma di questi 10 trilioni per la ristrutturazione di questo debito si aggiungono anche altri 2 trilioni che hanno a che fare con debiti derivati da progetti di miglioramento degli alloggi in aree degradate quindi 10 più 2 arriveremo a ridurre l'onere del debito nascosto da 14.3 a 2.3 trilioni di yuan entro il 2028 in più è stato aumentato il tetto del debito ma che significa questo arriviamo alle interpretazioni ci affidiamo a by guan e ciò che dice è che è un osservatore di dell'economia cinese e ciò che ci dice che sostanzialmente è stato annunciato per l'appunto un programma di scambio di debito per sostituire il debito ad alto interesse a breve scadenza con debito a basso interesse e ad alta scadenza di strutturazione del debito che aiuterà ad alleviare le pressioni di rimborso del capitale degli interessi dei governi locali un'altra differenza è che i debiti nascosti avranno uno status che avevano uno status di credito incerto ora invece diventano debiti governativi formali nessuno dei programmi fluisce direttamente verso i dirigenti e verso i residenti quindi le famiglie consumatori per cui questo programma non avrà un impatto diretto sui sui consumi ma vedremo che comunque questo ci spinge anche ad una riflessione su se ha o meno a che fare con l'aumento della domanda interna perché ciò che accade che se i governi locali hanno meno pressione per pagare gli interessi e ripagare i debiti hanno più fondi a disposizione per il rilancio dei consumi quindi se comunque non è una misura diretta sui consumi lo è in maniera indiretta perché perché quello che occorre fare è prima di tutto sanare i problemi dei governi locali ma appunto l'effetto positivo è meno diretto di un'erogazione diretta di denaro verso i residenti però per by one chiunque conti su uno stimolo keynesiano dal lazzo della domanda presume che il settore governativo sia pronto a entrare a sparare i suoi colpi di bazooka ma nel caso della cina il settore governativo stesso deve prima essere sistemato e con settore governativo si intende anche il rapporto tra governo centrale e governi locali questo anche perché a differenza gli stati uniti che possono stampare dollari all'infinito lasciare che il mondo paghi il conto la cina questo non lo può fare pertanto qualsiasi stimolo significativo non avrebbe successo senza prima risolvere il pasticcio dei governi locali insomma se in futuro ci sarà un programma di sostegno diretto ai consumatori sarà fatto principalmente tramite governi locali e non direttamente da da pechino come invece hanno fatto gli stati uniti quando hanno dato incentivi stimoli e risorse alle famiglie durante gli anni del del covid ma per poter arrivare a questo cioè ad un programma rivolto ai consumatori e portato avanti dai governi locali prima di tutto occorre risolvere il problema del debito locale quindi ma questo l'abbiamo già detto a luglio a luglio già ad agosto ad agosto commentavamo il terzo plenum e gli annunci che erano stati fatti adesso stiamo commentando le misure che vengono messe in atto sulla scia di quegli di quegli annunci ma si sta sostanzialmente parlando della stessa cosa cioè di creare le condizioni le precondizioni affinché poi si possa fare quella cosa di cui si parla da tempo cioè il rilancio dei consumi interni cinesi e il rafforzamento della dell'economia cinese ma proseguiamo per l'appunto con la lettura di bai guan che ci dice che alleviare la pressione sulle amministrazioni locali è la precondizione ma questa bisogna anche affiancare una disciplina fiscale per evitare di ritrovarsi nuovamente nella stessa crisi del debito che c'è stata fino ad oggi e che è stata indotta da investimenti eccessivi e il programma appena approvato ha come scopo appunto alleviare la pressione ma il governo centrale sta anche imponendo delle restrizioni ed entriamo quindi nell'ambito della disciplina fiscale ed ecco allora perché secondo bai guan il riconoscimento del debito nascosto è di soli 14,3 trillion e non di quei 60 trillion di cui parla invece il fondo monetario non è che il fondo monetario stia dando numeri numeri a caso e non è che il governo centrale non sappia quanto è davvero il debito nascosto dei governi locali ma ciò che accade è che il governo locale dà questo messaggio cioè che si fa carico solo in parte e per quanto ritiene necessario del conto dei debiti nascosti e i governi locali non possono aspettarsi che ogni parte della loro spesa sconsiderata venga sostenuta dal governo centrale e sempre andando nella direzione della maggior disciplina fiscale ecco che alcuni emendamenti che sono stati proposti alla legge della repubblica popolare sulla supervisione da parte dei comitati permanenti dei congressi popolari a tutti i livelli ecco ci sono alcuni emendamenti che sostanzialmente ci dicono ci dicono questo cioè che aumenterà e verranno espansi i poteri di supervisione dei congressi popolari a tutti i livelli inclusi i poteri di approvare la situazione del debito quindi il debito dei governi locali verrà tenuto più sotto controllo insomma per concludere il centro darà ai governi locali più entrate riducendo alcune delle loro uscite di cassa attraverso misure come questo programma di ristrutturazione del debito e ci sarà anche presumibilmente presto una nuova riforma fiscale che porterà a un maggior decentramento e quindi la possibilità di riscossione delle imposte da parte dei governi dei governi locali poi il centro aumenterà questo abbiamo già detto appunto una maggiore riscossione delle entrate fiscali come è stato detto il terzo plenum e come terzo punto allo stesso tempo il centro imporrà una forte disciplina fiscale per evitare di ritornare alla situazione nella quale ora si trova le amministrazioni locali ma se questo ha a che fare per l'appunto con il rapporto tra governi centrali e governi locali quindi politica interna altri osservatori invece ci dicono anche che questo può anche avere a che fare con situazioni di politica internazionale cioè prepararsi prepararsi ai dazi alle tariffe di donald trump ed è per questo che vediamo quindi una manovra di questo tipo una manovra che non si vedeva da dieci anni che seppur seguendo le linee guida del terzo plenum accelera anche nella implementazione diciamo di un sanamento di alcune situazioni che occorre sanare per poi poter davvero pensare di rilanciare l'economia soprattutto l'economia interna e i consumi interni sono anche un po il salvagente rispetto ad una crisi delle esportazioni verso gli stati uniti se quei dazi e quelle tariffe venissero per appunto approvate nella misura in cui trump le ha annunciate in campagna elettorale quindi un programma di preparazione ai dazi di trump così dice asia times che ci racconta di come la cina si stia muovendo per rifinanziare il debito degli enti locali e liberare risorse per la crescita prima che trump scateni la guerra commerciale 2.0 il pacchetto di scambio del debito da 1 4 trilion di dollari quindi quello di cui abbiamo parlato di cui abbiamo parlato che è stato annunciato l'otto di novembre la settimana scorsa questo pacchetto potrebbe rivelarsi più decisivo per l'economia di xi jinpin di quanto non sembri a gennaio 2025 trump sarà pronto a imporre le sue sanzioni del 60 per cento così come così come ha promesso e per mitigare l'aumento delle tariffe sull'economia pechino probabilmente aumenterà ancora lo stimolo fiscale così ci dice un osservatore di morgan stanley notando prevedendo che più trump aumenterà le tensioni commerciali più pechino potrebbe sentirsi costretto a mettere in campo misure per compensarle e quella della settimana scorsa che segue la vittoria di trump di pochi giorni potrebbe essere la prima misura che trump che la cina ha messo ha messo in campo ma sebbene la cina sia maggiormente preparata l'attacco di trump al commercio internazionale più preparata di quanto lo era durante la prima amministrazione trump in ogni caso pechino delle difficoltà a limitare i danni nel senso che la cina in uno svantaggio strutturale dato da una asimmetria di fatto nel senso che la cina se gli stati uniti hanno la possibilità di fatto di imporre tariffe sulle merci importate dalla cina la cina non ha questo strumento questo strumento di ritorsione nel senso che la cina usa la ritorsione verso l'unione europea quando l'unione europea aumenta tazzi e tariffe la cina fa altrettanto su alcuni prodotti che dall'europa vanno in cina ma questo potere più basso rispetto invece la bilancia commerciale tra tra la cina e gli stati uniti quindi una asimmetria che costringe pechino a trovare altri modi per per controbattere e la prima guerra commerciale quella della prima presidenza trump ha cambiato le carte in tavola molte aziende sono state colte di sorpresa gli investitori sono rimasti a bocca aperta questa volta le tariffe proposte da trump non dovrebbero essere una grande sorpresa però l'entità delle tariffe commerciali è piuttosto inedita pensiamo anche al 100 per cento sulle auto prodotte in messico e in messico ci sono anche aziende cinesi altri osservatori dicono che la seconda economia più grande del mondo la cina sta ottenendo risultati inferiori alle aspettative per chi non si sente più sulla difensiva di fronte alle minacce di trump i cinesi cercheranno freneticamente di stabilire canali secondari con gli alleati di trump favorevoli alla cina come ilon musk sperando che possano facilitare una relazione meno conflittuale trump lo sosterrà sosterrà la politica si farà modellare più da maschio si farà modellare più dei falchi di maschio abbiamo parlato la settimana scorsa in in un video su su questo canale ecco ma al momento i dati delle sport esportazioni cinesi sono piuttosto buone c'è un'accelerazione a ottobre c'è stato il più grande rialzo da dal 2022 quindi dalla fine del del covid tuttavia alcuni analisti si chiedono se pechino potrebbe svalutare lo un come ritorsione per i dazi di trump ecco questo interessante nel senso che la misura che è stata presa nel 2018 quando trump aveva lanciato i suoi dazi la sua guerra commerciale pechino aveva risposto prima di tutto con la svalutazione dello un per aumentare la competitività delle esportazioni cinesi nel senso che solo un vale meno rispetto al dollaro ecco che allora le merci cinesi diventano più economiche e si può così ribilanciare i dazi che trump aveva aveva imposto dopo che trump ha iniziato imporre tariffe la people bank of china ha consentito un depreciamento del 13 per cento dell'un appunto per ripristinare la competitività delle esportazioni e quindi possibile che di nuovo si arrivi a un depreciamento soprattutto data la rinnovata attenzione politica al sostegno della domanda della domanda interna come scrive un osservatore dopo la vittoria elettorale però ci sono dei dubbi ci sono anche dei grossi dubbi sul fatto che la cina possa arrivare a fare la stessa cosa che aveva fatto nel 2018 anche perché per rispondere ai dazi e tariffe che si prospettano se trump manterrà la promessa di portarla al 60 per cento ecco in quel caso non basterà un depreciamento del 13 per cento ma secondo varie analisi bisognerebbe almeno arrivare a un depreciamento del 40 per cento dell'un appunto porterebbe uno sconvolgimento nell'intero commercio mondiale ma soprattutto nell'intera regione asiatica e lo vedremo nel dettaglio è una regione che ha le sue turbolenze in questo momento ma soprattutto questo un depreciamento così forte va totalmente in controtendenza rispetto a quello che l'amministrazione cinese ha fatto negli ultimi 11 anni ormai di governo dell'amministrazione xi jinping è piuttosto è piuttosto dubitabile e andiamo a vedere perché dopo la vittoria di trump del 5 novembre lo yen cinese è stato scambiato al di sotto del tasso di fissazione della banca centrale questo vuol dire che i mercati si stanno preparando ad uno yen debole mentre l'ex e anche futuro presidente trump si prepara a scatenare nuove guerre commerciali ma in cina abbiamo da un lato il default tra gli sviluppatori immobiliari quelli che hanno anche un debito offshore e che quindi hanno già difficoltà nei pagamenti delle obbligazioni in dollari una svalutazione dello yen in questo caso andrebbe ad aggravare queste difficoltà degli sviluppatori immobiliari e che quindi potrebbero trovare più difficile effettuare pagamenti se lo yen crolla in modo in modo significativo anche in questo caso salvare il debito quindi ristrutturare il debito rafforzare i governi locali può essere fatto in vista di una mossa del genere nel senso che poi saranno i governi locali a dover salvaguardare per salvare gli sviluppatori che potrebbero entrare in crisi a causa di un depreciamento dello yen anche perché la politica che si è affermata negli ultimi anni è quella di dare nelle mani dei governi locali la gestione degli sviluppatori in in default per cui nel caso in cui si arrivasse ad una svalutazione dello yen occorre anche rafforzare i governi locali perché poi loro dovranno andare a salvare gli sviluppatori se si andasse in questa direzione ma ci sono altri dubbi su questo fatto se trump dovesse davvero dare inizio a una grande guerra commerciale la cina risponderà prendendo di mira le aziende americane con interessi in cina vendendo titoli del tesoro svalutando gli uen e prendendo di mira le esportazioni americane di prodotti agricoli così ci dice un osservatrice del british foreign policy group che comunque osserva che l'impatto sul commercio globale sarebbe enorme e la cina se può preferirebbe evitarlo ma se trump porta avanti la sua retorica commerciale una guerra commerciale occhio per occhio sembra quasi inevitabile ma le conseguenze sarebbero imprevedibili uno yen più debole si ripercuoterebbe sull'intera regione ma in realtà sul mondo intero e potrebbe incoraggiare i governi della regione a implementare la più grande svalutazione dalla crisi asiatica di fine anni di fine anni 90 nel senso che se la cina deprezza lo yen ecco che anche tutti quelli che stanno intorno alla cina e che si basano sulle esportazioni potrebbero essere spinti a fare lo stesso in una gara al ribasso per la cina il peso massimo dell'economia regionale le opzioni sono due o svalutare lo yen per proteggere le esportazioni o scatenare un massiccio stimolo fiscale per stimolare la domanda interna ecco quindi forse la manovra che abbiamo visto la settimana scorsa potrebbe essere la prima il primo passo verso questa politica per quanto può anche essere propedeutico verso la svalutazione del yen ma probabilmente potrebbe essere il primo passo per per nuovi e massicci stimoli che la cina ha trattenuto il governo centrale ha trattenuto negli ultimi anni ma probabilmente anche poi per rilasciarli in un caso come quello che si sta mostrando per il futuro cioè la guerra commerciale contro gli stati uniti un dazio del 60 per cento potrebbe innescare una svalutativa svalutazione dello yen dal 30 al 45 per cento e per l'asia un dollaro ruggente potrebbe significare un disastro le precedenti impennate del dollaro hanno spazzato via i guadagni sul debito in valuta locale la linfa vitale dei mercati emergenti dell'asia con pesanti debiti esteri in dollari alcune economie potrebbero sentire la stretta trasformarsi in una morsa la vittoria di trump potrebbe aver incendiato wall street ma per l'asia l'effetto trump è una scommessa ad alto rischio che potrebbe rimodellare il panorama finanziario per gli anni a venire per fare un rapido tour dei problemi della dell'asia partiamo dal giappone dove il pil continua a deludere e il paese in preda a un caos politico abbiamo di fatto un governo di minoranza come raramente accade in giappone a seul il presidente attuale ha un indice di gradimento bassissimo e il rallentamento della crescita e il peso di un debito record in un contesto in cui l'economia coreana è dominata da una manciata di giganteschi conglomerati orientati all'export quindi anche in questo ambito la guerra commerciale se si estendesse all'intera regione asiatica e anche la corea potrebbe potrebbe essere un grosso problema taiwan ha la sua bolla immobiliare che mette alla prova i funzionali della banca centrale l'indonesia sta lottando contro una crescita al rallentamento e le filippine affrontano una minaccia da parte dell'intelligenza artificiale che sta mettendo a repentaglio la sua vitale industria dei call center singapore sta attraversando una crisi del costo della vita e la thailandia nel mezzo di una disputa politica che sta mettendo da parte le riforme economiche se questi dazzi che se davvero trump gli va a fare avrebbero degli effetti considerevoli anche all'interno degli stati uniti pensiamo all'aumento dell'inflazione sicuramente hanno questa criticità tanto che ci sono dei dubbi che davvero trump possa andare a fare una roba del genere però se gli stati uniti non possono diciamo essere sicuri di essere una posizione di forza beh allo stesso modo anche l'asia non è sicura di essere una posizione di forza per i problemi che abbiamo elencato sia in cina ma anche intorno intorno la cina e dato appunto questo contesto interno regionale difficilmente il partito comunista di si opterà per una svalutazione dello yen consentire un regime monetario stabile affidabile è stata una delle politiche di riforma più coerenti dei suoi oltre 11 anni però per ora appunto l'effetto trump sta facendo salire il dollaro e sta tirando ondate di capitali verso gli asset statunitensi ciò sta esercitando una pressione al ribasso dello yen alimentando i timori che pechino possa vedere una corsa al ribasso come la sua migliore linea d'azione ecco insomma questo strumento che è stato usato nel 2018 cioè svalutare lo yen oggi è più difficile utilizzarlo rispetto a 6 a 6 anni fa se non ci sarà alternativa si arriverà a questo con effetti imprevedibili a livello a livello mondiale a livello interno se si può evitare di fare una roba del genere è meglio allora pensare a rafforzare andare a sanare quei problemi interni cinesi appunto il debito dei dei governi locali rafforzare queste istituzioni in vista di quello di cui parliamo da tempo cioè andare poi a dare stimoli per il consumo interno andando in questo modo a pareggiare una crisi dell'export nel caso in cui quei dazi appunto arrivano al 60 per cento o più ma se non si arriva per tempo fare questo beh ecco che allora la svalutazione dell'un potrebbe essere lo scenario inevitabile comunque è ancora tutto da vedere quella che vi ho proiettato è la newsletter di oggi che abbonato su tp la riceve per per email oltre a quello che abbiamo visto c'è anche un elenco dei falchi di trump ho raccolto un po di articoli che ci parlano di come trump sta componendo la sua futura amministrazione di come questo abbia anche a che fare con con la cina tornano vecchie figure tornano vecchi discorsi che dalla fine di trump erano erano passati un po in sordina ma probabilmente col suo ritorno torneranno torneranno ancora sotto sotto i riflettori chi abbonato riceve tutto oggi per email chi vuole abbonarsi per ricevere la newsletter può farlo col link atp che trovate in descrizione che oltre che per ricevere la newsletter anche fondamentale per poter sostenere questo canale e continuare con con questo progetto come al solito ringrazio tutti quelli che già ci sostengono e chi lo vuole fare e vi saluto e ci vediamo al prossimo video